benvenuti in questa guida top 7 alberi di natale di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative ma partiamo subito al settimo posto troviamo albero di natale 180 cm albero di natale foltissimo imponente di bellissima presenza la sua forma classica con chioma folta ed ampia lo rende realistico vediamo la nostra valutazione una soddisfacente qualità generale un'offerta conveniente nelle caratteristiche diamo 3 stelle complessivamente un ottimo rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 79 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo giulia grillo albero di natale l'albero di natale p folto sul mercato con i suoi 1250 rami questo albero di natale da 150 cm si presenta molto folto senza ecco cosa pensiamo la qualità generale raggiunge 3 stelle nell'offerta assegniamo 3 stelle 3 stelle per le caratteristiche nella media il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 75 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo flora new tiffany albero di altezza 210 cm ramo a gancio in pvc numero rami 1078 diametro massimo 124 cm montaggio a gancio flora new vediamo la nostra valutazione nella qualità generale assegniamo 5 stelle un'offerta convincente con una straordinaria funzionalità nel rapporto qualità prezzo raggiunge 3 stelle il nostro punteggio generale è di 84 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare brigros albero di natale crea una magica atmosfera l'albero di natale il vero re delle feste capace di regalare luce e calore in ogni casa e riunire vediamo il nostro parere una soddisfacente qualità generale un'offerta conveniente per le funzionalità raggiunge 3 stelle assegniamo 4 stelle per il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 88 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo g e d e g o k albero di natale artificiale bel albero di natale l'albero di natale realizzato in materiale pvc ecologico sicuro da usare e che vediamo la nostra opinione una soddisfacente qualità generale ottima offerta online con una soddisfacente funzionalità con un rapporto qualità prezzo adeguato il nostro punteggio generale è di 91 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo s a l c a r albero di natale artificiale qualit premium albero di natale 210 cm artificiale albero di plastica colore verde ecco la nostra valutazione una discreta qualità generale nell'offerta assegniamo 3 stelle con particolari caratteristiche con un rapporto qualità prezzo molto alto il nostro punteggio generale è di 96 punti trovi informazioni nel link in descrizione prima posizione vince la classifica totò piccini albero di natale l'originale abete natalizio di tot piccini foltissimo imponente e di bellissima presenza verde tono su tono per le foglie ecco il nostro parere una buona qualità generale nell'offerta assegniamo 4 stelle con una soddisfacente funzionalità sommariamente ottimo il rapporto qualità prezzo il punteggio è di 90 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale